Grazie Presidente, non accetto la riformulazione perché non credo e non ho fiducia nel Governo che valuti l'opportunità di o cose simili. Troppe volte abbiamo sentito da parte di questo Governo dire che arriveranno gli aiuti, intanto interveniamo, poi faremo, intanto decidiamo, poi diremo, poi le aziende sono sempre lasciate da sole e abbandonate. In questo caso si parla delle aziende che hanno bisogno di materie prime come il mais, il grano e altri interventi di questo genere, queste aziende rischiano serie difficoltà con conseguenze sull'occupazione. Quindi noi non ci accontentiamo del fatto che il Governo possa valutare l'opportunità di chissà quando intervenire, gli interventi servono ora ed è già troppo tardi.